I forestali scendono in piazza per manifestare, lo faranno il prossimo 16 settembre, davanti l'assessorato agricoltura a Palermo. Una manifestazione organizzata dalla Sifus Confel, presentata ieri in conferenza stampa a Ragusa dal segretario generale Maurizio Grosso, che ha spiegato come i problemi che stanno investendo il comparto forestale oggi il Sifus li avesse preannunciati all'inizio del 2015, dopo aver letto la proposta di finanziaria relativamente al comparto stesso. Nella proposta, infatti, le risorse erano notevolmente inferiori rispetto agli anni precedenti e quindi era prevedibile che non ci si sarebbe mossi, secondo una logica della programmazione dei lavori legati alle necessità del ciclo biologico delle piante. Non si sarebbero realizzati i necessari lavori di manutenzione preventiva tutela dei boschi, le assunzioni sarebbero state effettuate a singhiozzo e gli stipendi sarebbero stati pagati con notevole ritardo. Era necessario dunque rivendicare prima che il governo Crocetta votasse la finanziaria, la difesa dei boschi e del lavoro, magari bloccando la Sicilia, come suggeriva il Sifus. Ha spiegato così ieri Grosso, che punta il dito contro i sindacati confederali, che avevano invece rassicurato i forestali. Per completare le giornate di legge servono ora 100 milioni di euro, fondi che pare siano stati reperiti nei giorni scorsi da un accordo tra governo regionale e Ministero delle Infrastrutture, da vecchi fondi PAC, ma che prima di essere disponibili sarà necessaria una delibera cipe. Secondo Grosso è quindi ora necessaria una forte azione di lotta da parte dei forestali siciliani, prima che sia troppo tardi per completare le giornate e ridurre i rischi provocati dagli incendi.